Non transito purtroppo, 5-6-6-6-2-Whiskey, bravo Gianluca, mi ascolti, cambio? Italia 6 Oscar Novembre Eco. Perfetto Ivo, come non ti ascolto, stupendamente, un abbraccio, 73, c'è Italia 6 Oscar Novembre Eco che chiamava, ciao. Italia 6 Ontario, Nicaragua Europa, Italia 6... Terminato Papa, Catasto, Nidofelce 37 ... St Mum unboxing ... Ora, qui ça va ? Italia 6 Oscar Novembre Eco, wyspando la scurta, in shocker a l'esculto. avaient step it up ? Grazie a tutti